Riapre il Duomo di Pesaro con una nuova visuale sui mosaici sotterranei. La patata bollente dei servizi sociali, il centrosinistra replica gli attacchi di Lanzi e Boccanera. A difesa dei consultori, presidio a Pesaro contro la privatizzazione delle strutture. Via ai lavori per la pista ciclorotellistica, intervento da 2 milioni di euro. 11 nuovi spettacoli, continuo alla stagione capitale di prosa delle Teatro Rossini. Una buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati allo spazio informativo serale di Rossini News. Telegiornale di venerdì 24 di maggio che apriamo con alcune immagini arrivate e girate proprio poco più di un'ora fa. Immagini che riguardano il Duomo di Pesaro con la cattedrale che riapre al pubblico dopo poco meno di un mese di chiusura per il completamento del progetto di ampliamento delle finestrature sui mosaici sotterranei. Progetto che è stato presentato proprio questo pomeriggio. Una nuova luce sui mosaici del Duomo di Pesaro. Un nuovo sguardo, quello offerto dall'intervento finanziato dalla Fondazione Scavolini che ha portato in questo periodo primaverile a intervenire sul pavimento della cattedrale di Pesaro ampliando le finestrature già presenti, ampliandole di 42 metri quadrati portando ad oltre 200 metri lo sguardo sul tesoro sotterraneo custodito dalla cattedrale. Sfruttando una struttura che era già pensata in questa prospettiva quasi 25 anni fa oggi finalmente abbiamo dato seguito grazie ovviamente anche all'interessamento e al finanziamento di una realtà come la Fondazione Scavolini così legata a questo territorio, a questa città. E quindi sono molto contento, orgoglioso e partecipo dell'orgoglio del popolo pesarese. Lo scorso anno quando Pesaro è stata eletta capitale culturale italiana e soprattutto anche alla vigilia del giubileo 2025 ci è sembrato giusto riaprire i cantiere qua all'interno del Duomo. Siamo riusciti in poco tempo ad ampliare le vetrate, sono altri 40 metri quadri ma sono infatti in posizioni strategiche che ci permettono di vedere entrambi i mosaici quello superiore e una parte anche di quello inferiore. Siamo veramente felici di aver portato avanti questo progetto in così poco tempo. Con le soluzioni adottate davvero un'ampia parte del mosaico è resa visibile e mette alla luce poi tanti simboli davvero interessantissimi e quindi sarà un'esperienza da vivere quella di entrare e di leggere e quindi conoscere cosa rappresenta questo pavimento che ci narra di una storia, di una presenza cristiana che risale al IV secolo quindi all'era cosiddetta paleocristiana, cioè i primi secoli del cristianesimo. E questo davvero ci dice come ciò che oggi è la Chiesa dopo diciamo 1600 anni di storia ci dice che c'è una continuità tra questa storia in questa storia che ha delle radici così lontane. 3 milioni e mezzo di risorse in più per il personale del comparto della sanità per valorizzare le professionalità e implementare le risorse del trattamento accessorio. L'assessorato regionale alla sanità detta infatti le linee di indirizzo agli enti del sistema sanitario regionale affinché incrementino i fondi contrattuali secondo la quota massima consentita dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali sarà incrementato di quasi 2 milioni e mezzo di euro dal 2024 mentre il fondo Premialità per il trattamento accessorio che comprende straordinaria indennità e produttività aumenterà di 1 milione e 150 mila euro. Un incremento che sarà ripartito proporzionalmente tra gli enti del sistema sanitario per garantire una remunerazione adeguata del personale e migliorare le condizioni di lavoro. Ed ora la politica polemica a Pesaro sulla gestione dei servizi sociali. Mercoledì scorso attraverso una conferenza stampa documentata anche dal nostro Tg il candidato sindaco di centrodestra Marco Lanzi assieme al capolista dei civici Pesaro Andrea Boccanera ha attaccato il sistema del welfare pesarese. Oggi è arrivata la replica del centro-sinistra che amministra i servizi sociali da anni. Polemiche irrispettose e strumentali su un welfare pesarese che è un modello riconoscibile e all'avanguardia. L'assessorato alla solidarietà di Luca Pandolfi che è anche presidente dell'ambito territoriale e sociale dalla sede elettorale di Biancani Sindaco alza lo scudo in un botte risposta di conferenza stampa iniziato dal candidato di centrodestra Marco Lanzi che assieme al capolista dei civici Pesaro Andrea Boccanera ha invocato un giro di vite su welfare pesarese reputato il più delle volte un sistema improduttivo volto allo spreco di risorse senza visione di prospettiva. Da qualche settimana il nostro modello sociale e territoriale è attaccato continuamente dal centrodestra con motivazioni che sono motivazioni false ed è un attacco poi alla fine rivolto a tutto il mondo dei servizi sociali, del volontariato, agli operatori, a tutto lo staff e dipendente del comune, dell'ambito sociale e territoriale che lavorano da anni insieme per fare quello che è e realizzare quelli che sono i progetti di welfare che sono ancora a livello nazionale all'avanguardia e questi attacchi sono anche attacchi alla storia del welfare e del sociale territoriale. Sono stati raccontati i giorni per i disabili come luoghi in cui queste persone fanno solo, colorano e sembra quasi lì parcheggiati. Sono diurni che lavorano in rete che sono virtuosi. Io ho avuto modo di visitarne alcuni e ho visto che sono laboratori in cui vengono fatte attività occupazionali in modo tale che i ragazzi diventano protagonisti. È una storia che va raccontata bene perché rischiamo non tanto di emergere con la voce sui temi della campagna elettorale ma rischiamo di fare un brutto servizio e un brutto racconto di cose che riguardano le famiglie, le persone e gli operatori. Utilizziamo modalità che pochi comuni in Italia utilizzano che sono quelli della coprogettazione e la coprogrammazione cioè decidiamo i progetti da realizzare insieme al terzo settore addirittura facciamo integrazione sociosanitaria quindi insieme all'aste e alla sanità e nella modalità della coprogettazione. Faccio un esempio, quest'anno abbiamo avuto 590.000 euro di progetti sull'autismo e potevamo fare un bando di gara come si può fare, come fa la maggior parte delle amministrazioni comunali e pubbliche sul territorio italiano noi abbiamo fatto la coprogettazione abbiamo riunito a un tavolo 60 soggetti la sanità, le associazioni di familiare, il terzo settore e ci siamo chiesti quali sono i progetti migliori da realizzare sul nostro territorio con queste risorse e insieme abbiamo individuato i 47 progetti che oggi vengono sviluppati sul territorio sul tema dell'autismo questa è la coprogettazione esattamente come siamo attivi con la coprogrammazione cioè l'analisi dei bisogni del territorio e le scelte le facciamo insieme al territorio e al terzo settore Giù le mani dai consultori, dalla loro privatizzazione dalla loro influenza di carattere ideologico oggi a Pesaro si è tenuto un presidio a difesa del settore pubblico e laico di queste strutture No ai consultori privati mentre quelli pubblici vengono chiusi e svuotati di personale privando la comunità di strutture gratuite e laiche è questo il grido d'allarme che lanciano associazioni sindacati riunitisi questa mattina per un sit-in davanti al consultorio pesarese delle Cinque Torri manifestanti che attaccano come con un emendamento al decreto PNRR sia stato previsto che la Regione Marche nell'organizzare i consultori possa valersi del coinvolgimento di soggetti del terzo settore con il rischio esternato dai manifestanti dell'ingresso delle associazioni provita anti-abortiste all'interno delle stesse strutture Dopo 30 anni dobbiamo ricominciare quasi una battaglia per la quale tante donne in tutto il paese si erano spese perché la battaglia per la possibilità di usufruire di una legge è una battaglia che tante donne hanno compiuto decenni fa tornare oggi a ridiscutere questo ci sembra veramente in qualche modo un disconoscimento delle battaglie che tante donne hanno fatto certamente nessuno parla di abolire la 194 perché sarebbe una cosa nemmeno la destra perché sarebbe un fatto talmente eclatante che anche loro si rendono conto che non è possibile ma svuotarla da dentro è un affronto io direi alle battaglie delle donne e oltre alle battaglie ai diritti che le donne hanno di scegliere consapevolmente la maternità e lo fanno quando hanno bisogno di usufruire di questa legge per un'introduzione di gravidanza con grande dolore perché per le donne un aborto non è mai un fatto indifferente Noi sappiamo benissimo che la Regione Marche non ha ancora recepito quel provvedimento ministeriale del 2020 dove diceva le Regioni che dovevano introdurre non solo l'aborto chirurgico ma anche l'aborto farmacologico con la RU486 ecco, questo per noi vuol dire impedire alle donne di accedere a un servizio che anche la medicina oggi ha migliorato non facendole andare nelle sale operatorie per fare l'interruzione volontaria di gravidanza ma attraverso un farmaco somministrato con delle previsioni come dire ministeriali perché mentre in Francia ad esempio l'RU486 viene assunta addirittura a casa in Italia è previsto che sia somministrata in ospedale ma va bene anche questo l'importante è che sia un farmaco che sia a disposizione dei consultori degli ospedali il consultorio è il luogo dove si realizza la sanità territoriale di prossimità perché ci sono 66 consultori nelle Marche c'è bisogno di potenziarlo in 7 consultori delle Marche tutti i professionisti sono obiettori quindi alcuni dei diritti che devono essere esercitati in quel luogo di fatto vengono impediti noi chiediamo un cambio di passo radicale e che ci sia un rilancio del settore pubblico non il collasso del pubblico a favore di associazioni private tanto più quando quelle associazioni private hanno una matrice religiosa che quindi mina nel profondo il diritto all'autodeterminazione della donna e mentre migliaia di studenti sono ancora sui banchi per l'anno didattico corrente oggi la regione Marche ha deliberato le date per quello che riguarda l'anno scolastico 2024-2025 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado le lezioni di fatto inizieranno l'11 settembre 2024 comprese le scuole dell'infanzia e avranno termine il 7 giugno 2025 ed ora parliamo di lavori pubblici è partito il cantiere di realizzazione della pista ciclorotellistica in zona Torraccia di Pesaro 2 milioni di investimento per un anno di lavori dopo diversi rinvii è partito il cantiere per la realizzazione della pista ciclorotellistica in zona Torraccia per il Lecomune di Pesaro si tratta di un investimento nell'impiantistica sportiva da 2 milioni di euro un milione e mezzo dei quali finanziati dal PNRR nella sezione sport e sociale il progetto fu annunciato già nel 2021 e ha visto partire mercoledì i primi lavori di 330 giorni di cantiere che puntano a consegnare l'opera fra un anno nella primavera 2025 si tratta di un impianto particolarmente atteso nel mondo del ciclismo e del pattinaggio cittadino principali destinatari di una struttura polifunzionale che andrà a coprire una carenza di spazi per queste discipline sportive la struttura è stata posta in un'area che stava finendo in progressivo degrado tant'è che per avviare il cantiere è stata necessaria una bonifica dai rifiuti e dili trovati nello spazio verde in questione collocato fra i perrossini vitrifrigo arena pista ciclabile sul foglia ed eliporto nello specifico sarà realizzata una pista ciclistica di 2 km e 200 metri oltre a 600 metri dedicati alla rotellistica a Tigua la pista sarà realizzata una palazzina su due livelli in cui saranno collocate palestra, spogliatoi, infermeria, uffici secondo le omologazioni coni prevista anche un'altra area outdoor dedicata a basket e a discipline compatibili agli spazi ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni da ieri sera ha cominciato a circolare in maniera virale sulle chat pesaresi di Whatsapp un video amatoriale di una coppia che fa pubblicamente sesso in pieno giorno nella spiaggia di Baia Flaminia non curante di occhi indiscreti video che naturalmente vi stiamo mostrando in forma oscurata ed ora cambiamo radicalmente argomento e parliamo di fibra ottica tecnologia all'avanguardia destinata a migliorare sensibilmente la connettività delle aree industriali fanesi Fano compie un balzo in avanti nella connettività delle sue aree industriali 50 km di fibra ottica realizzata da FibraWeb permetteranno infatti una svolta 4.0 alle aziende gravitanti in zona Metauro Cucurano Rosciano e Bellocchi un'opportunità analizzata nella Sala della Cultura in un workshop sul tema della fibra ottica al servizio dell'industria è un passaggio strutturale molto molto importante perché la fibra ottica è al centro del fulcro dell'industria 4.0 permette sia all'industria sia alla popolazione sia a tutta la municipalità di fare un salto di qualità in portanza anche perché è lì che permette poi la digitalizzazione il miglioramento dei servizi l'apertura verso il mondo in generale delle aziende per cui accelera servizi che stanno in cloud computing intelligenza artificiale eccetera per cui è la base di uno sviluppo strutturale del territorio Nella tavola rotonda sono stati portati anche case history aziendali che beneficeranno di questa svolta infrastrutturale come l'eccellenza nautica della WIDER lavoriamo molto sui progetti i progetti normalmente sono fatti eseguiti su software che richiedono insomma una capienza in termini di archivi e in termini di capacità anche di esecuzione molto elevata quindi il semplice trasferimento di elaborati digitali attraverso la rete chiaramente richiede una rete che sia idonea a far trasferire il minore tempo possibile con la migliore efficienza gli elaborati che ci consentono di fare il nostro mestiere la disponibilità di tecnologie ovviamente rende possibile l'implementazione di servizi evoluti e di conseguenza quindi la disponibilità di tecnologie è assolutamente importante l'università ha ovviamente un ruolo significativo perché è quella che traina la ricerca attraverso quindi la partecipazione a progetti congiunti di ricerca tra università e imprese si possono studiare nuove tecnologie si possono implementare nuove forme di realizzazione delle infrastrutture tale per cui quindi su queste infrastrutture possono essere offerti dei servizi innovativi di interesse per le imprese servizi innovativi che possono andare dalla produzione industria 4.0 industria 5.0 sono delle parole chiave che nascondono in realtà dietro delle evoluzioni tecnologiche che fanno comunque affidamento sulla disponibilità di una connessione a larga banda assolutamente evoluta così come servizi per i dipendenti pensiamo al telelavoro che adesso è di estrema importanza così come le teleconferenze e la realtà immersiva noi siamo dall'Umbria siamo arrivati alle marche siamo approdati in provincia d'Ancona adesso ci stiamo spostando verso la provincia di Pesaro poi andremo contemporaneamente anche verso Ascoli per cui cercheremo di coprire un po' tutte quelle che sono le marche dorsali importanti con dorsali diversificati rispetto agli operatori principali questo è un grosso vantaggio perché permette ulteriore vantaggi tipo la resilienza dei servizi per cui avere due reti diverse sarà uno dei vantaggi del futuro in particolare restiamo su Fano dove parte della proprietà della caserma Paolini verrà trasferita a breve dall'agenzia del demanio al comune l'ex compendio militare in disuso dalle 2.000 di circa 20.000 metri quadri coperti e 12.000 scoperti sarà destinato a polo amministrativo al comune verrà trasferita parte della proprietà che include la palazzina a comando di 4.000 metri quadrati la riqualificazione del bene oltre a costituire un'eccezionale occasione di rigenerazione urbana del complesso demaniale consentirà di avviare lo sviluppo di iniziative e investimenti immobiliari sul resto del compendio Davide Lombardi 49 anni geometra il nuovo presidente del comitato Croce Rossa italiana di Pesero subentra da Antonio Brancadori che ha guidato l'associazione per due mandati ovvero otto intensi anni in cui il comitato ha notevolmente aumentato il proprio impegno e impatto sul territorio fronteggiando tra l'altro l'emergenza pandemica arriva un altro conferimento di sigillo d'ateneo dell'università di Urbino martedì 28 maggio alle 11 nell'aula magna del rettorato il riconoscimento andrà alla leggenda del rugby internazionale Diego Dominguez per anni colonna della nazionale azzurra da una leggenda della palla ovale alla Fiorini Pesaro Rugby che ha annunciato oggi il cambio di allenatore in vista della stagione 2024-2025 i kiwi giallorossi infatti si congedano dal tecnico Pierpaolo Panzieri e accolgono il 42enne argentino Marcello Martino giocatore già nella massima serie italiana dal 2003 al 2011 dal 2015 Martino ha iniziato la sua esperienza sulle panchine prima delle giovanili e poi della prima squadra argentina del club gimnasia e sgrima di Rosario vincendo anche il titolo regionale dopo 18 anni da rugby al volley la megabox Vallefoglia inserisce un'altra giovane talentuosa atleta pesarese nel proprio organico dopo la centrale di urbani Alice Torcolacci si aggiunge ora il 17enne libero Alice Feduzzi fresca campionessa d'Italia under 18 con la cortina express Imoco formatasi nella blue volley Pesaro la Feduzzi ha giocato alla Chions Fiume Veneto in B2 per poi l'anno scorso passare alla cortina express in B1 trovando anche l'occasione di essere inserita nella formazione di Conegliano di A1 in occasione della partita interna con Cuneo Lasciamo lo sport e concludiamo il nostro telegiornale con il teatro questo weekend infatti calerà il si pare sulla prima parte della stagione capitale di Prosa 2023-2024 mentre in autunno si aprirà la seconda parte con sconfinamento sul 2025 per quel che riguarda nove nuovi spettacoli e due eventi speciali che sono stati presentati questa mattina maggio chiude l'essipario sulla prima parte e svela i nomi di quella che sarà la seconda offerta di spettacoli della stagione capitale della Prosa al Teatro Rossini fra l'anno di Grazia 2024 e lo sconfinamento fino alla primavera 2025 nove spettacoli in abbonamento più due progetti speciali si comincia il 10 ottobre con il regista Andrea Baracco che porta in scena Mephisto romanzo di una carriera si continua con il ritorno del musical Gris della Compagnia dell'Arancia e ancora l'ultimo spettacolo di Emma Dante Re Chichinella e a varcare il 2025 sarà la commedia di Vanessa Incontrade Gabriele Pignotta con Ti sposo ma non troppo poi il regista tedesco Peter Stein che porta crisi di nervi tre atti unici di Anton Chekhov e ancora Gabriele Lavia con Lungo viaggio verso la notte Ferdan Ospeta con magnifica presenza Elio con Quando un musicista ride fino alla chiusura di aprile con Casanova di Condemi Continuiamo a chiamarla stagione capitale ma a pensarla come stagione capitale con l'idea che la circostanza della capitale della cultura ci faccia fare ancora di più sintesi tra i generi diversi convocando a Pesaro il meglio del teatro italiano a partire naturalmente dal grande teatro di regia quindi diciamo continuiamo per la seconda stagione a in qualche modo ad allargare lo sguardo quest'anno ancora di più perché aggiungiamo due progetti speciali accanto ai novi titoli in abbonamento sempre per le quattro recite due progetti speciali molto speciali uno è molto speciale emotivamente anche per noi perché è l'ultimo progetto che debutterà qui di Glauco Mauri alla Chiesa dell'Annunziata un omaggio a questo insomma a questo volto del teatro insomma che è vero che fa la sintesi di storia e presente e poi un ritorno di cui siamo molto felici di Alessandro Baricco che torna a raccontarci le sue le sue scritture anche in scena e quindi appunto nove titoli in cui abbiamo cercato come sempre devo dire quest'anno in maniera ancora più larga perché siamo riusciti con gli amici dell'Arancia a rifare una proposta anche di musical e riportiamo Gris che segna ha superato i due milioni di spettatori è un cavallo di battaglia e poi davvero tanto tanto teatro si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News però continuano gli spazi informativi sul nostro canale 80 a cominciare da ciò che avviene subito dopo il TG già dalle 20 con il nostro magazine La Natura della Cultura questo nostro format di approfondimenti sui temi di Pesaro Capitale della Cultura 2024 format che vi tiene compagnia il lunedì il mercoledì e il venerdì alle 8 alle 13 e appunto alle 20 ma potrete rivedere tutte e tre le puntate domani alle 12 e alle 19 e domenica alle 15 e alle 21 e poi andremo a rivedere il conferimento al sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino a Rosario Fiorello appuntamento alle 21 e 20 con questo riconoscimento davvero ad uno dei più popolari personaggi dello spettacolo italiano e poi naturalmente vi ricordo l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione di questo sabato 25 maggio sarà condotta dal nostro Antonio Astuti si conclude qui invece l'informazione serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio vi ringrazio